A Teramo la Facoltà di Bioscienze di Università compie 20 anni dalla sua fondazione. Avviata come Facoltà di Agraria nel 1998 con un solo corso di laurea, nel 2013 ha cambiato denominazione in Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali. Per festeggiare il ventennale si è svolto nell'aulamagna del campus universitario, il convegno al quale hanno partecipato studiosi e protagonisti che hanno contribuito allo sviluppo della Facoltà Teramana, ma anche alcune importanti aziende che hanno collaborato sul piano della ricerca e hanno portato al successo i laureati teramani. Una facoltà che ragionando sulla sua storia guarda soprattutto al futuro, ma una facoltà che ha sempre guardato al futuro dal momento della sua istituzione ed attivazione. L'idea di investire non nelle scienze agrarie, quindi solo nella produzione primaria, ma anche e soprattutto nella trasformazione alimentare, quindi nella filiera agroalimentare, comprendendo anche le biotecnologie agroalimentari, di fatto è stata un'idea vincente. Un'idea vincente sia come capacità formativa, ma anche e soprattutto come possibilità di sbocco per i tanti laureati che in questi anni si sono succeduti. La bioscienza in vent'anni è riuscita ad affermarsi sulla ricerca in un contesto internazionale, sulla formazione a divenire un polo attrattivo, sulla capacità di generare sinergie sia con le altre facoltà dell'Ateneo, sia con i dipartimenti del sistema universitario regionale, in modo assolutamente egregio. È davvero un esempio da indicare a tante strutture che stanno cercando di avviarsi verso un percorso strategico di sviluppo. I migliori auguri a bioscienze nella certezza che sarà sempre di più un polo di propulsione della ricerca, della formazione e dello sviluppo del territorio. I migliori auguri a bioscienze.